Vibostar Production presenta Evento People Compilation Evento People Salsa Compilation Vol. 3 Energia Latina, per un'estate tutta da ballare Evento People Compilation In collaborazione con Alosigla Music Group Per informazioni visita il sito www.eventopeople.it Deja Vu Rec e Alosigla Music Group presentano Mi Religion Il nuovo album di Feet of Grass Mi Religion Il ritmo e il sentimento di Cuba Mi Religion Dal 10 aprile, nei migliori negozi di musica latina By Alosigla Music Group and Deja Vu Rec Per informazioni www.alosigla.it Grazie